Benvenuti in questo nuovo video dei troll Ragazzi mancava da davvero tantissimo tempo ma me l'avete chiesto in tantissimi sotto nei commenti Leggevi in tutti i video quando tornano i troll, quando tornano i troll Eccoci qua e i troll sono tornati ragazzi Vi dico solo una cosa, superiamo i 10.000 mi piace per avere un troll settimana prossima Sarebbe davvero devastante Mi raccomando se non siete ancora iscritti al canale che magari siete nuovi eccetera eccetera Ovviamente oltre a lasciare un like che da telefono è buggato Quindi prendete il telefono, schiacciate tantissime volte il like e andate un pochino sotto e iscrivetevi pure Questo ragazzi doveva essere un I am qualcosa challenge, sempre delle solite cose che faccio con Eren Però si è tramutato in troll, vi ho tagliato tutta la parte iniziale così da non avere il fatto che non c'è la doppia facecam E ho lasciato solo il troll finale, quindi non vedrete l'inquadratura di Eren Però ragazzi è davvero devastante, vi dico solo questo Vi ho scioglitto ragazzi, mi raccomando ricordatevi del like e bella Ecco! Dova! Giuseppe! Una leggenda del calcio giocato! Ok però trollare con la pagina è molto difficile, sai? È molto complicato, devo essere sincero Non è facile, non è facile, ne ho buttato io uno in partita e li metto le cose invisibili Allora, sapete come che era? H-sfere, H-sfere, 166, facciamo 10 Spacca pure il sotto Allora facciamo scendere? Sì sì Con tanto differenza, ma è quello con la lingua? È un altro, tutti hanno la lingua Perché hanno la lingua? Che problema c'è? Non lo so, sai? È tipo una skin alternativa a Steve? No, oddio, è vero, non può aprire la cesta Gli ho messo, gli ho messo Il bello è che lui sta guardando in alto con questa linguettina E non capisce Fa troppo ridere Ma è una cosa, è cattivissima come cosa Non può fare nulla Si sta guardando e si inchina al tuo cospetto È vero, sai che se droppi in giro delle palle di neve puoi tipo creare dei cloni di te In qualche modo Eh sì Ma se io mi continuo a girare così, ma si vede che giro? No Ma si sta inchinando Sì sì, si sta... Io gliela tolgo Prostrando Io gliela tolgo una cosa Io faccio ando Vai, toglio Te la merita, questa possibilità Vado da un altro Dova Giuseppe! Do-do-do-va Giuseppe! Do-do-do-va Giuseppe! Vediamo cosa vi compie Beh, questa volta è armato, ha lo scudo, ha tutto quanto, eh Non gliela fai stavolta a Dova Io lo chiuderei dentro E mi entrarei da un'altra parte Ah, ok, proprio così, di cattiveria Vado da un'altra parte Vado da questo, guardalo Lo voglio salvare No, è caduto Aspetta Ok, sono da... Io non... Sono da Sparvi Sparvi? Eh, dov'è Sparvi? Nell'anello centrale? Aspetta Il tuo amico dall'inizio sta pontificando verso Dova Giuseppe Oh, davvero? È chiuso Dova Giuseppe, però Aspetta, però non può procedere Ha fatto un cartello Dova Cosa è che ha scritto? Non può avvicinarsi a lui Marci Sta smattando Però ha scritto Marci Ha scritto Dova Giuseppe Dova ci ha sgammati Guarda l'altro Guarda l'altro Che non riesce ad andare Stai provando in tutti i modi Come cazzo è entrato? Che l'unico buco che avevo fatto l'ha beccato lui Non ci posso credere Ma che volano nel vuoto? Nooo No, Dova Dova lo lasciamo qua fisso per sempre Andiamo da un altro E torniamo qui tipo fra dieci minuti Vediamo se è ancora qua Sì, sì, se c'è così Va bene Crea lì una gabbia e buttalo qua Vado da Red Peaks Tipati Guarda, lui non arriverà mai al centro, lo sai? Dici? Mi stanno già sparando palli di nero Non può arrivare al centro, lui Guarda, è bloccato qua Ah Poretto Ha preso un infarto C'è rimasto male Guarda, guarda Sta smattando Sono da una parte o dall'altra Così vicini ma così lontani Mi sembra di vedere upside down Sto male Io chiederei diecimila mi piano solo per sta scena che è troppo Ah, ma sai che c'è il bug delle enderpegne? Tipo quelli del Tipo nel nether che se tu le butti tra un blocco e l'altro Ti fa andare su Ah, è presente? Sì, è vero Eh, loro lo potrebbero fare qua Tanto c'è un altro rompipalle che è arrivato a che mi appare la situa Io lo chiudo in un'altra mini sfera Ciao, sono una palla Sono una palla di neve Vabbè, lui mi ha droppato un asce in oro Va bene così Cazzo, no, è scappato da Dal buco Ma perché è partita la musica di Clash Royale? No, raga, sentite? È bloccato il telefono Te lo giuro è inquietantissima sta cosa Come ha fatto uscire? Aspetta, io ti ho totalmente perso Arriva anche l'altro È bloccato Sono tutti tre bloccati in tre sfere diverse E il quarto? Sono in tre sfere diverse Ma sono in quattro sfere Credo di sì Sono in quattro sfere Sono... Mio Dio Mio Dio, Marci Doveva essere un I am snowball challenge Finita in You are... You are trapped I try, sì Challenge Io sono uscito dalle cose Allora, io adesso cerchiamo di Fare le cose per bene Ok, io voglio fare la snowball Che rimane qua sopra Da Luke Questo qua Sto cercando di Intrappolare ancora di più Il poveretto qui Guarda Red Pixel Che sta guardando Con la bocca a me Dice Ma che cazzo sta succedendo qua? Ma il bello è che Red Pixel È intrappolato lì per sempre Cioè non si può proprio muovere Mio Dio Marci Però io non riesco a farti le riprese Talmente blocchi ci sono Mio Dio Sono intrappolato anch'io Hai rotto l'armatura L'ho rotto l'armatura Beh, il bello è che lui è convinto di star combattendo con l'altro secondo me Seriamente? Eh sì, lo guardava Red Pixel Red Pixel mi fa morire ti giuro Il Pixel è... Ma guarda che sai che le paia di neve possono rompere l'armatura Com'è passato? Che cazzo? Ma è miracolato Ho fatto un'altra barriera Oh mio Dio, ma perché Red Pixel è sopra? Ma che sta succedendo? Ma cosa sta... No Si sono uccisi No Perché Red Pixel è lì? Scusa un attimo Red Pixel Io ti richiudo di un'altra sfera No, spera Red Pixel C'è qualcosa che non quadra Con Red Pixel no Minchia Marci Ma quante sfere? Non capisco niente Vuoi vedere quante sono? Basta mettere un po' d'acqua Guarda c'ho io la... Madonna Marci È tutto rosso Se tu tieni la barriera in mano È tutto rosso in giro Devo andare in game multrequo Ah, sento io Mamma mia Guarda sopra si sta creando aspetta ignoranza è degenerato questo è abbastanza dov'è la palla di nero in tutto questo? sta arrivando arrivo arrivo per la red pixel che cerca di picconare i blocchi invisibili come fai a non pulire di bene? ma il fatto che non esco nemmeno io quello capisci? oh ma pian piano non sai che sta riuscendo a scendere in qualche modo? è una leggenda sta trovando ha trovato tipo una via per passare non capisco sta mettendo la TNT ma che cazzo nooo non è venuta un'idea aspetta aspetta devo uscire da qua ti ha visto ti ha visto ti ha visto chi? quello sotto cerca di frecciarti ciao ciao come stai? come stai? tutto bene? io tutto bene? sii non gli ho dato anche la snowball è lui che è ancora freccia non è una gran tattica bisogna dirlo intanto red pixel ancora sta salendo scende ce la sta mettendo tutta è morto no com'è che si chiamava? raga qua non si capisce aspetta facciamolo salire da qua tanto non succede niente c'è un'altra sfera che dovrebbe tirare fuori costruiamo una casetta in cima lo facciamo andare ti giuro io sto in grano non capisco come fare se il red pixel ma non lo so sembra un genio è un genio dai red da qua puoi salire bravo red bravo red di qua puoi andare ancora guarda che puoi andare bravissimo vedi che puoi salire ancora un botto buon nega secondo me mark ha delle tn in mano non voglio dire ma secondo me si vuole uccidere non ci riesce non ha spazio tipo no no volendo si si red sali si red red sta salendo perché perché marci non ho fatto niente io è negato no non ci posso credere non ci posso credere allora portiamo qui gente a caso se vuoi ma se facciamo tipo tp all ma come tp all ma sei fuori io ti faccio tutti qua ma chi sono tutti ma si stanno melando ma che hai combinato e tutti gli skywars qua sono puretti io spero che il video vi sia piaciuto vi trovo a lasciare un like un commento e agli iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto da marci è tutto e erene è tutto bella red pixel genio